Sai, a volte penso che questo è soltanto un sogno. Non l'ho mai detto a nessuno, primatore. Per il ciclo firmato Eastwood. C'è mio figlio là dentro! Tu sei fottuto, buzardo! Premio Oscar a Sean Penn e Tim Robbins. Kevin Bacon, Lawrence Fishburne. Un sogno, certo. Mystic River, venerdì alle 21, con Iris.